Il problema è che la musica non è tutta uguale. La musica rappresenta dei diversi livelli della conoscenza. Soprattutto la musica è proprio fatta in modo completamente diverso. Esistono musiche che sono come un risotto di Vissani, appunto, ed esistono musiche che sono come il panino di McDonald's. Possiamo vederlo nello stesso ristorante, mi domando, questi due piatti. Sarebbero un ristorante assai strano. E perché invece al Festival di Sanremo ci devono essere cose buttate tutte là come se fossero nello stesso livello? Ma non tanto al Festival di Sanremo. In ogni ambito musicale che vediamo sentiamo una canzone di D'Andrea e poi subito dopo un pezzo di Marco Carta. Com'è possibile? Carta canta, anzi no.